Ciao a tutti e benvenute qui sul nostro canale. Oggi parliamo di Gianluca ben in casa che dopo tutto questo silenzio torna all'attacco. O meglio, l'ex di Antonella Fiordelisi, come ben sapete, ha fatto e sta facendo di tutto per infangare lei e la sua famiglia. Ha trascorso un periodo di stagno, ma dopo che qualche utente si è ricreduto su di lui e di conseguenza anche su di lei, ha deciso di rendere pubblici alcuni messaggi ricevuti. Questi messaggi mirano ad infangare l'altra parte, dando ragione a Gianluca ben in casa sulle tattiche, tra virgolette, di Antonella Fiordelisi e famiglia. Ora, perché continuare sempre sullo stesso argomento? Perché Gianluca ci si accanisce così tanto? Non sarebbe meglio rifarsi una vita e lasciare tutto alle spalle a torto ragione? O secondo voi fa bene a far valere la sua di ragione? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qual è la vostra opinione al riguardo, condividete questo video con amici e parenti e lasciateci un bel mi piace. Grazie e a presto!